Ciao e benvenuto all'addestramento di base. Sarò il tuo narratore e tu, beh, sarai Spider-Man. Prima di iniziare, devi sapere come contattarmi. Quindi, quando la tua testa fa così, significa che ho qualcosa da dirti. Per ascoltarmi, premi il tasto Select. Normalmente nei livelli dell'addestramento ti parlerò sia che tu premi il tasto Select oppure no. Comunque, questo è l'unico modo che hai per contattarmi durante qualsiasi altro livello. Ok, iniziamo! Puoi arrampicarti su un muro premendo il pad analogico verso di esso. Provaci ora! Ok, ti stai arrampicando. È importante che tu sappia che puoi andare più veloce tenendo premuto il tasto L. Puoi anche saltare sui muri premendo il tasto Salto durante l'arrampicata veloce. Dai, fammi vedere come raggiungi il tetto di questo palazzo. Guardati! Sei un arrampicamuri modello! Vediamo. Ogni tanto apparirà quella freccia nella parte superiore dello schermo che ti mostra dove andare. Adesso stai indicando il luogo da raggiungere con la ragnatela. Puoi oscillare premendo il tasto R. Ehi, ehi! Stai oscillando! Segui la freccia fino al prossimo obiettivo. Wow! Ce l'hai fatta! Adesso che sei qui, lascia che ti parli dei tuoi sensi di ragno. È un po' come quello che ti succede quando ho qualcosa da dirti, giusto? Beh, i tuoi sensi di ragno sono molto importanti perché ti avvertono della presenza di un pericolo, quindi dovresti toglierti da lì. Ora che lo sai, mettiamo alla prova i tuoi riflessi di ragno. Quando vedi lampeggiare i tuoi sensi di ragno, devi spostarti velocemente. Puoi saltare, utilizzare la ragnatela veloce o anche schivare il pericolo. Per schivare, tieni premuto il tasto L mentre ti muovi in una direzione e premi il tasto salto. Ok, facciamo una prova! Oh oh! Beccato! Riproviamoci! Ha ha ha! A quanto pare i tuoi riflessi non sono poi così veloci! Oh! Deve avere fatto male! Ha ha ha! A quanto pare i tuoi riflessi non sono poi così veloci! Oh! Deve avere fatto male! Ha ha ha! A quanto pare i tuoi riflessi non sono poi così veloci! Oh! Deve avere fatto male! Ha ha ha! A quanto pare i tuoi riflessi non sono poi così veloci! Finalmente! Stavo mettendo le radici! Bene! Mettiamo alla prova le tue abilità nel combattimento! Segui la freccia per acciuffare quel criminale! Allora! C'è la freccia per acciuffare quel criminale! Insomma! Questo è un criminale, un tuo nemico, un avversario Prova a colpirlo con pugni e calci premendo il tasto quadrato e il tasto cerchio Bel lavoro! I criminali si rigenereranno fino a quando non ne avrai abbastanza A quel punto potrai abbandonare il tuo nemico e seguire la freccia fino alla prossima missione Ok, siamo all'ultima missione dell'addestramento di base Devi raggiungere quel segnale sopra di te con la ragnatela veloce Per farlo, tieni premuto il tasto L e premi il tasto R Puoi utilizzare questa ragnatela per spostarti velocemente Per farlo, tieni premuto il tasto R Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.